Un violento terremoto devasta la città. La situazione è catastrofica. Le autorità faticano ad elaborare un piano di emergenza. La situazione è catastrofica. In un contesto in cui le potenzialità non erano visibili ma solo immaginabili, prende forma Coldwell Banker Real Estate. Da Coldwell Banker nasce Coldwell Banker Commercial, primo network al mondo di advisory e intermediazioni immobiliare. Il segreto del successo sta nel fornire una forma di consulenza ed assistenza personalizzata ai clienti in tutte le fasi della collaborazione. Perché la ricerca di un immobile è solo il primo passo verso la realizzazione di un investimento sicuro e proficuo. La divisione Hospitality, specializzata nella vendita e locazione di strutture alberghiere, studia anche progetti di development esclusivi che consentano al brand di espandersi. La crescita costante del settore legata a terreni edificabili, compendi immobiliari e residenziali e grandi complessi di nuova costruzione offre importanti opportunità di investimento. Queste sono molto spesso legate anche ad edifici preesistenti, oggetto di riqualificazione e riconversione, per esprimere nuove potenzialità con destinazioni d'uso diverse. Dietro molte opportunità imprenditoriali legate al mondo immobiliare, si nascondono affari che non consentono un ritorno di investimento adeguato. Coldwell Banker Commercial si occupa di individuari immobili in grado di produrre reddito immediato, progettando un piano d'azione capace di rendere la struttura profittevole nel breve-medio periodo. La sede di un'impresa, di una filiale o di un progetto di co-working è il biglietto da visita dell'attività stessa. L'intermediazione immobiliare della divisione Office tiene conto di diversi fattori basati sulle esigenze del cliente investitore, prestigio, ambizioni e identità aziendale. L'individuazione del negozio fisico passa per l'analisi di fattibilità in termini economici, per il posizionamento rispetto al contesto urbano e per la ricettività da parte della clientela in termini di flussi di passaggio e collegamenti stradali. Operazioni commerciali, investimenti e collaborazioni che hanno generato risultati imprenditoriali ed immobiliari di successo. Ognuno di essi rappresenta un punto d'orgoglio ed una costante promessa di migliorare sempre di più i servizi in futuro. La dimensione storica e geografica del nostro paese è da sempre una leva molto potente, capace di attirare in Italia turisti da tutto il mondo, alcuni dei quali investitori interessati al patrimonio nostrano. Questa riflessione è stata il punto di partenza per Coldwell Banker Commercial, protagonista di cinque importanti intermediazioni immobiliari relative ad altrettante strutture ubicate in Sicilia. Il successo dell'operazione è condiviso con il Tribunale di Roma, che ha permesso al network immobiliare di affidare strutture ricettive di grande potenziale, che tuttavia versavano in condizioni di sofferenza, a player importanti, in grado di trarre vantaggio e dare meritato lustro ad alberghi di tradizione storica di primo livello. Quando a Massimiliano Fuxas fu commissionato un progetto innovativo per il nuovo Polo Business nel quartiere Eur di Roma, l'opinione pubblica venne spiazzata da quella che sarebbe stata considerata in futuro una delle sue creazioni più innovative. La Nuvola, oggi sede di eventi e manifestazioni internazionali. Il complesso annovera tre strutture distinte, La Nuvola, La Teca e l'hotel La Lama, struttura ricettiva di 439 stanze nota al pubblico per gli alti standard qualitativi proposti. Coldwell Bunker Commercial ha curato le operazioni di mediazione, conclusesi con l'acquisizione dell'hotel La Lama da parte del gruppo Hilton. Un progetto frutto di una sinergia tra settori diversi, accomunati dall'interesse per una struttura polifunzionale in grado di essere unità ricettiva d'élite, ma anche ritrovo artistico e punto di riferimento enogastronomico. L'estetica architettonica è stata rivisitata dal genio di Jean Nouvel, in grado di donare una luce innovativa, ma allo stesso tempo conservativa della dimora storica posizionata in pieno centro di Roma. L'unità ricettiva è gestita da Kike Sarasola, patronna della catena alberghiera spagnola Room Made Hotels, che ha realizzato, in esclusiva per il progetto Rino Ceros, un brand inedito dedicato, The Rooms of Rome. Il sodalizio fra Coldwell Bunker Commercial e Room Made Hotels fa capo ad un più grande progetto di espansione del noto brand spagnolo in Italia. L'hotel Nix nasce nella zona centrale di Milano, dove un tempo risiedevano degli uffici. La struttura si sposa perfettamente con la capitale italiana della moda, presentandosi come il primo Lifestyle Hotel d'Europa. Un concept ricettivo che unisce arte, cultura, creatività e spazi pensati appositamente per incontri di lavoro formali e non. Il W di Via Liguria a Roma, invece, cavalca la tradizione viver del quartiere che ha ospitato, tra via Veneto e strade adiacenti, la ben nota dolce vita romana raccontata nella cinematografia del secolo scorso. Non è un caso che sia proprio il W a fare il suo ingresso come struttura ricettiva in quell'area della città, caratterizzato da una prestigiosa espressione di lusso contemporaneo. Quando Coldwell e Bunker ricostruirono San Francisco edificio dopo edificio, a seguito del terremoto, la stampa dell'epoca benedisse le operazioni come la genesi di un circolo virtuoso. Circa cento anni dopo, il quartiere Giuliano Dalmata di Roma ha vissuto una lunga fase di immobilismo istituzionale e totale assenza di progettualità che ha portato l'area romana ad una condizione di abbandono immobiliare. Grazie all'intervento di Coldwell Bunker Commercial, che ha curato un'operazione immobiliare da ben 184 appartamenti, sta per vedere la luce il complesso residenziale Le Gemme, prima struttura abitativa polifunzionale dopo più di 20 anni dall'ultima nuova costruzione del quartiere Dalmata. Il complesso Le Gemme comprende anche 10 locali commerciali, un elemento di continuità con il passato e una forte volontà di innovazione. Coldwell Bunker Commercial, oggi, è presente in fiere di settore ed eventi di brand reputation dei suoi maggiori clienti. Coldwell Bunker Commercial, oggi, è stato un'operazione immobiliare da ben 184 appartamenti,